Questo caso è ancora un caso che non è stato risolto, benché ci fossero una quantità di prove impressionanti all'interno dell'abitazione, ma l'uomo si è direguato e nessuno sa che fine abbia fatto. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. La storia di cui andremo a parlare è quella dell'assassinio di questa famiglia, avvenuto il 30 dicembre del 2000. Questa famiglia era la Miyazawa Family. Immaginatevi la scena, un uomo ha ucciso l'intera famiglia, è rimasto nell'abitazione per 10 ore e poi se n'è andato. Questa più o meno è la storia, ma ci sono dei dettagli veramente macabri che vorrei condividere con voi. Ho deciso di trattare di questa storia perché dal momento che sono passati 20 anni, a breve, mi sembra dopo 22 anni che un crimine è stato scoperto, comunque avvenuto, se in 22 anni, e non vorrei dire una cavolata, però mi sembra 22 o 25 anni, un assassino non è stato catturato, praticamente cade l'accusa. Non so se funziona così anche in Italia, però siccome sta per finire comunque il periodo in cui questo assassino potrebbe venire catturato, sono sparsi un po' per tutto il Giappone dei poster rappresentanti questa storia, questa vicenda che è venuta a Setagayaku e cercano di arrestarlo. Vi posso far vedere un'immagine, per esempio, di un poster che ho visto proprio davanti a casa, in cui appunto si cerca di trovare questo assassino. Prima di iniziare con questo video vi ricordo che uscirà il mio nuovo album il 10 di settembre, quindi se volete prenotarlo vi lascio in descrizione il link per farlo, e in ogni caso, anche in questo momento, potete andare su Spotify e ascoltare la mia musica. Lasciate un mi piace se volete altri video come questo, cercherò di pubblicare nuovi video True Crime tutti lunedì e tutti giovedì a lunedì pomeriggio, e davvero non sapete quanto mi fa piacere vedere che apprezzate questi video, perché richiedono veramente un grosso lavoro e se mi aiutereste anche solo con un mi piace a condividere la vostra passione che avete per questi video, ve ne sarei veramente grato. E inoltre vi ricordo che ogni sabato pubblico video sul mio canale di Giappone, se volete andare anche su quel canale ve lo lascio in descrizione o anche nelle schede di questo video. Ma adesso partiamo! Questo caso è ancora un caso che non è stato risolto, benché ci fossero una quantità di prove impressionanti all'interno dell'abitazione, ma l'uomo si è direguato e nessuno sa che fine abbia fatto. Ma andiamo ad analizzare chi erano i membri di questa famiglia. Allora, il padre era micchio e aveva 44 anni, la moglie invece di 41 si chiamava Yasco, e poi avevano i due figli, rispettivamente di 8 e 9 anni, la figlia Mina e Ray, che potete vedere nella foto. Mikchio lavorava per Interbrand, che è questa marketing firm di Londra, mentre Yasco lavorava come insegnante. La famiglia si era trasferita in una zona piuttosto residenziale chiamata Setagaia. Tra l'altro, piccolo fatto divertente, io ho anche vissuto in questa zona. Si sono trasferiti nel 1999 e c'erano circa 200 case, tutte abitate da famiglie, spesso con figli, quindi una bella zona dove andarsi a trasferire. La loro casa è questa che potete vedere, vi ho fatto vedere un po' di immagini qui da Google Maps. Era un'abitazione divisa in due, la famiglia di Mikchio-san abitava in una di queste due ale di questa casa, mentre l'altra parte della prasa era dove vivevano comunque la madre e i fratelli, insomma, in lo di Yasco. Benché comunque queste case erano attaccate l'una all'altra, non c'era nessuna porta che poteva ricondurre a una delle due abitazioni. Quindi erano proprio due case a parte, benché fossero congiunte. Dietro la loro abitazione c'era questo parco dove erano soliti radunarsi una serie di ragazzini, anche teenager, insomma, che finivano per rimanere in quel parco anche a tarda notte, facendo piuttosto casino. Questo aveva creato dei malcontenti con la famiglia che si era lamentata comunque del rumore che veniva da questo parco a tutte le ore della notte. Insomma, io posso immaginare questa famiglia avendo anche dei bambini piccoli di 6-8 anni, quanto può essere fastidioso comunque che a luna di notte magari ci sono dei ragazzi che sghignazzano nel parco davanti a casa. Questo parco attirava sempre più giovani, tant'è che comunque la provincia aveva deciso di allargare questo parco e di quelle 200 famiglie che si erano spostate in questa area per vivere ne erano rimaste solamente 4, perché la maggior parte di loro si erano dovute trasferire dal momento che questo parco si stava ringrandendo sempre più. Anche la famiglia di Miyazawa comunque era stata offerta di potersi trasferire in un'altra abitazione, tuttavia prima che questo trasferimento fosse avvenuto qualcosa di terribile è successo. Appunto la ragione per cui sto facendo questo video dopo tutto. La famiglia Miyazawa sembrava una tipica famiglia giapponese, normale, nulla da dire, non avevano particolari nemici o altro, tuttavia sembra che comunque nella settimana precedente al capodanno, quindi l'ultima settimana dell'anno del 2000, Mikio San si sia confrontato con un gruppo di skaters che giocavano nel parco chiedendogli di tenere il rumore un po' più basso, il volume della musica o della loro voce basso, perché comunque stavano dormendo e era tardanotte. Sembra che tra l'altro ci sia stato un testimone che ha anche visto questo Mikio parlare con una gang di motociclisti, chiedendo anche in quel caso di non fare troppo baccano. La notte del 30 dicembre, l'ultima notte che la famiglia è stata vista viva, la famiglia si stava preparando per il capodanno, dovete sapere che a capodanno di solito non è come il capodanno italiano. In Giappone il capodanno si festeggia con la famiglia, un po' come il nostro Natale. Ci si ritira per qualche giorno, non si va nei negozi, si preparano questo siciliori, che è praticamente questo tipo di cibo che si può mangiare per vari giorni senza che vada male, e si passa del tempo con la famiglia, anche perché è uno dei pochi momenti in cui tutti sono in vacanza, quindi si può proprio trascorrere un po' di quality time con i propri familiari. Quella sera sembra che comunque tornati dal lavoro, i genitori siano andati con la famiglia a fare la spesa e sono tornati nell'abitazione verso le 6 e mezza. La madre di Yasuko ha chiesto se i bambini volessero andare a casa sua a guardare un po' di televisione, quindi i figli Rei e Nina sono andati a casa della loro nonna fino alle 9 e mezza. E tra l'altro, attraverso dell'investigazione, si è scoperto che fino alle 10 e 38, Mikio San doveva essere ancora in vita dal momento che ha controllato la sua email. Era la sua email di lavoro, e sapete, le email di lavoro ci sono un sacco di step per accedere, e quindi solamente lui sarebbe stato in grado di poter accedere alla sua email. Quindi alle 10 e 38 sicuramente Mikio era ancora in vita. Nessuno poteva aspettarsi che cosa sarebbe successo di lì a un'ora poco. La mattina seguente, alle 11, Yasuko ha telefonato alla famiglia Miyazawa per poter chiedere che orli sarebbero stati i piani per il pomeriggio e se avessero magari trascorso dell'altro tempo insieme. Tuttavia, quando ha telefonato, si è resa conto che la linea era stata interrotta. Dal momento che ha notato che la linea era stata interrotta, ha deciso di andare direttamente nella loro abitazione per vedere che cosa era successo. È andata alla porta, ha sonnato il campanello, ha bussato, ma nessuno sembrava rispondere. Quindi ha usato la sua chiave che aveva, aveva comunque accesso alla famiglia, comunque si tratta della madre, di una di loro, normale che abbia la chiave. È entrata e quando è entrata ha trovato il corpo di Mikio, che era stato praticamente pugnalato a morte in fondo alle scale, proprio all'entrata dell'abitazione. Qua vi faccio vedere una mappa un po' dell'abitazione, ha trovato il corpo qui. E dovete sapere che questa donna poi si è recata in cima alle scale e è stato lì che si è trovata davanti ai suoi occhi il corpo della sua figlia e anche della sua nipote che erano stati anche loro pugnalati. In qualche modo erano stati pugnalati in modo anche più violento di quando era stato pugnalato Mikio. e io non posso immaginare che cosa abbia provato in quel momento. Ha toccato i corpi di sua figlia e della sua nipote e ha detto che erano freddi. Io non, veramente, è una cosa terribile. E la nonna si è quindi recata nelle altre stanze per vedere se magari Ray si era salvato, l'altro figlio. Tuttavia lo ha trovato nella sua stanza, nel suo letto, strangolato a morte. Potete immaginare lo shock che ha provato questa nonna e anche quello che ha provato la polizia quando è arrivata in questa abitazione. Entrando nell'abitazione sono riusciti a trovare un gran numero di prove. Hanno trovato un coltello per tagliare il pesce, un coltello da sashimi, che non apparteneva alla famiglia Miyazawa. Tuttavia sembra che sia stato usato anche un altro coltello per colpire alcuni dei membri di questa famiglia. Inoltre sulla scena era stato trovato anche il sangue che non apparteneva ai membri della famiglia Miyazawa. Quindi il loro assassino si era ferito durante questo attacco. Inoltre sembra che l'uomo abbia cercato comunque di curare le sue ferite con quello che avevano in casa. E sembra che durante queste sue ore che ha trascorso in questa abitazione abbia inoltre consumato del melone che aveva trovato nel frigo e del gelato che aveva trovato nell'ice cream. Inoltre aveva provato ad accedere un po' a tutte le carte di credito dei membri di questa famiglia che erano state tutte piazzate praticamente su un tavolo del soggiorno. Le sue impronte erano un pochino per tutta la casa. Addirittura era andato nel bagno senza tirare l'acqua. Cioè immaginatevi, cioè non lo so, lo schifo anche di questa persona. Ha anche riempito la vasca da bagno di acqua e per qualche motivo sembra che ha buttato un po' di cose a caso all'interno di questa vasca piena d'acqua. Ha buttato una serie di documenti appartenenti alla famiglia di Mikio, la scatola del gelato che aveva consumato e anche Cerotti che aveva utilizzato e tutte queste cose qui. Probabilmente era un modo per poter mascherare magari la sua identità o oscurare determinate prove, non lo so. Però è un comportamento veramente strano. Probabilmente non si rendeva conto della quantità gigantesca di impronte e prove che aveva già lasciato per tutta la casa. E ragazzi, sulla base di tutte queste prove che sono state trovate, il mio pensiero è stato sicuramente avranno trovato l'assassino. Tuttavia così non è stato. La polizia è comunque riuscita a ricostruire quello che è successo in quella fatidica notte. La polizia sostiene che qualcuno si sia intropolato nella loro abitazione tra le 10.38 e le 11.30 di notte. Che l'uomo sia penetrato attraverso la finestra del bagno al secondo piano. Sembra che la prima persona che sia stata uccisa è stato il figlio Rei che è stato strangolato nella sua stanza. Probabilmente Mikio ha sentito un rumore e quindi si è diretto nella stanza del figlio salendo le scale. Tuttavia quando era in cima alle scale è stato attaccato da questo uomo e dopo averlo pugnalato lo ha poi spinto giù dalle scale. L'uomo si è poi diretto nel loft dove ha cercato di far fuori la figlia Mina. Tuttavia l'arma che utilizzava si deve essere rotta durante questo attacco e quindi si è diretto in cucina dove ha preso un'altra arma. Nel frattempo che si è diretto in cucina la madre, probabilmente insospettita da alcuni rumori, si deve essere recata anche lei nel loft dove con una coperta ha cercato di fermare la fuoriuscita di sangue dalla ferita che l'uomo le aveva procurato. Tuttavia non è riuscita a salvarla, anzi l'uomo, il loro aggressore è arrivato anche lui nuovamente nel loft dove ha attaccato e fatto fuori madre e figlia. E pensate che l'uomo è poi rimasto in quell'abitazione per una decina di ore, non ha spostato i corpi, anzi è andato lì, è camminato per tutta la casa sostanzialmente, ha letto dei documenti, ha mangiato melone e gelato dal loro frigorifero, ha utilizzato il bagno, come se nulla fosse. Cioè io non oso immaginare che mente malata deve avere una persona del genere. Uccidi un'intera famiglia e poi rimani nell'abitazione per dieci ore come se nulla fosse. Assurdo. Tra l'altro sembra che a Luna 18 ha anche tentato di utilizzare il computer della loro famiglia, ha provato anche a comprare dei biglietti per il teatro, probabilmente era un modo per cercare di capire se riusciva ad avere accesso al loro conto bancario, tuttavia non è riuscito in questi suoi tentativi. E poi è entrato nel computer un'ultima volta alle 10.05, il giorno successivo, è andato praticamente a cliccare su tutti i siti che avevano tra i preferiti, tra cui la scuola dove lavorava la madre, Yasco, e anche il sito dell'azienda di Michio. E dopo che ha finito, praticamente ha spento il computer e ha anche staccato la spina. Sembra tuttavia che quando si è uscito di casa si sia affrettato a scappare velocemente. La polizia sospetta che se ne sia andato dall'abitazione quando ha sentito bussare alla porta e ha abbandonato l'edificio attraverso la finestra del bagno. O alternativamente potrebbe anche essere uscito dalla porta principale dopo che aveva finito di usare il computer. Inoltre nell'abitazione sono anche stati trovati i vestiti che il ragazzo indossava, che erano ricoperti di sangue. Molto probabilmente il ragazzo prima di andarsene ha pensato bene di cambiarsi d'abito e indossare i vestiti del padre. Così non sarebbe stato scoperto, insomma sarebbe stato alquanto sospetto un ragazzo che... Un ragazzo, almeno non sappiamo se era un ragazzo. La polizia almeno ipotizza che sia un ragazzo, cioè vestito con degli abiti ricoperti di sangue, probabilmente avrebbe attirato molto l'attenzione, diciamo così. Se andate a cercare in internet comunque ho trovato un sito che descrive esattamente comunque più o meno quali sono state tutte le prove che sono state trovate attraverso questo caso. Sono anche stati descritti la tipologia di vestiti che indossava, probabilmente nella speranza che qualcuno avrebbe potuto cogliere qualche indizio per poter incriminare questo assassino. Vi lascio comunque in descrizione il link di questo sito. Questa è una foto estremamente famosa, se vogliamo dire così, di questo killer. Questo è più o meno l'aspetto che la polizia ipotizza che abbia e la tipologia di vestiti che avrebbe indossato quando ha abbandonato l'abitazione. Tutt'oggi gira, vi ho fatto vedere delle immagini, perché si sta veramente cercando di trovare questo assassino. Non so in che modo si possa risalire a lui da questa immagine, però questa immagine, soprattutto negli anni in cui è successo questo fatto terribile, è stata veramente diffusa un po' per tutto il paese, c'erano poster attaccati ovunque. Uno degli indumenti, diciamo, che più la polizia è riuscita a indagare o comunque ha cercato di trovare più informazioni era il suo marsupio, perché questa tipologia di marsupio è un marsupio che è prodotto e può essere comprato solamente in America, almeno nel 1999. Tra l'altro poteva essere stato comprato solamente nell'area vicino alla Edward Air Force Base in California. Quindi, diciamo, delle informazioni estremamente specifiche. Tuttavia, prendete queste informazioni con le pinze, perché ci sono altri report che un pochino smentiscono queste informazioni dal momento che sembra che questo marsupio possa essere stato comprato anche vicino alla base militare in qualche area del Giappone. Sapete? A Yokutsuka, mi sembra. Cioè, proprio la base militare americana potrebbe essere stato comprato lì, oppure anche nella zona di Okinawa. Un altro significativo indumento che indossava era la tipologia di scarpe. Le impronte di queste scarpe sono state trovate praticamente ovunque per la casa e attraverso delle ulteriori investigazioni la polizia è riuscita a risalire a quale tipologia di scarpe il ragazzo stesse indossando. Queste erano le scarpe, tuttavia il suo numero di scarpe sembra che è un numero che non fosse venduto a quel tempo in Giappone e era solamente venduto in Corea. Si è scoperto, tra l'altro analizzando gli indumenti che ha lasciato in questa abitazione, che i suoi vestiti erano stati lavati in acqua calda. E dovete sapere che la maggior parte delle lavatrici in Giappone lavano solo... No, la maggior parte, tutte praticamente le lavatrici in Giappone lavano solo a freddo. Quindi diciamo che il fatto che i suoi vestiti siano stati lavati a caldo è un'altra informazione piuttosto significativa. Molte persone, infatti, polizia stessa, sospettano che questa persona sia probabilmente stata all'estero recentemente. Anni e anni sono passati da questo avvenimento, ci sono stati una serie di testimoni che si sono fatti avanti, tuttavia nessuna testimonianza ha aiutato la polizia in modo concreto a trovare questo criminale. Nel 2006 tuttavia c'è stata una specie di evoluzione, se vogliamo chiamarla così, di questo caso, perché la polizia, facendo delle analisi sul sangue che era stato trovato in quell'abitazione, è riuscita a scoprire che il criminale aveva il sangue di tipo E e tra l'altro, sempre analizzando questo campione di sangue, è riuscito a capire a quale etnia questa persona appartenesse. Quindi sembrerebbe che la sua madre faccia parte di un paese dell'Europa del Sud, mentre suo padre era coreano, giapponese o cinese, quindi era una persona con il sangue misto. La più probabile dell'ipotesi è comunque che il suo padre fosse coreano. La polizia sospettava che questa persona fosse o un ragazzo oppure un militare, o comunque qualcuno che avesse un parente o che fosse la persona stessa all'interno dei militari americani o coreani in Giappone. Un'altra teoria molto quotata è che questo ragazzo facesse parte di quella gang di skaters che giocava nel parco davanti a casa. E questo un pochino va di pari passo un po' con la tipologia di vestiti che hanno trovato, che era tipicamente indossata dagli skaters in quegli anni. Potete immaginare che se questo ragazzo magari, che ne so, frequentava quel parco che era proprio davanti alla casa di questa famiglia, molto probabilmente ha avuto tutto il tempo di stalkerarli e capire un pochino i loro orari e trovare il modo migliore per potersi intrufolare in questa abitazione e compiere questo massacro orribile. Un altro elemento che potrebbe essere considerato sospetto, comunque avrebbe potuto dare alcuni indizi di che cosa sarebbe successo di lì a poco, è che in quest'area, in quel parco, sono stati trovati molti animali che sono stati maltrattati, cioè più che maltrattati, mutilati, si pensa per puro divertimento. È stato trovato per esempio un gatto nell'agosto del 2000 a cui era stata tagliata la coda. Subito dopo questo incidente è stato trovato anche un gatto con, pensate, un'unghia impiantata nell'occhio e nel dicembre, sempre dello stesso anno, è stato trovato anche un gatto a cui sono state tagliate completamente le gambe con qualcosa di affilato e pensate che questo gatto era talmente stato ferito gravemente che il giorno seguente ha purtroppo perso la vita. Dovete sapere che tutti questi casi, tutti questi incidenti, sono avvenuti molto vicini all'abitazione di questa famiglia e il criminale che ha compiuto queste azioni ignobili non è mai stato trovato. Personalmente io credo che tutti questi casi che sono avvenuti, questi maltrattamenti di questi animali, siano in qualche modo collegati a questa persona che ha compiuto questo crimine così orribile. Tuttavia ci sono talmente così tante possibilità che possono essere collegate a questo avvenimento che sinceramente non dubito che questa persona sarà mai ritrovata. Probabilmente questa persona in questo momento non è neanche nemmeno in Giappone, cioè io se fossi un criminale e avessi fatto una cosa del genere non rischierei di rimanere in questo paese e venire incriminato probabilmente. Potrebbe anche essere stato un assassino che già in precedenza si era macchiato di crimini simili considerando il fatto che era così tranquillo dopo che aveva commesso questi atti così orribili e andato avanti e indietro per la casa per più di 10 ore. Oppure potrebbe essere una persona malata mentalmente che voleva, non lo so, in qualche modo sentirsi a casa o avere una famiglia, non lo so, assurdo. Probabilmente era una persona piuttosto forte dal momento che è riuscita ad alzarsi e tirarsi su fino al secondo piano da solo per riuscire ad entrare nella finestra. E ragazzi tra l'altro il 31 dicembre c'era stato anche un uomo che si era recato in un ospedale lì vicino per farsi medicare la mano. Magari in quegli anni non era necessario identificarsi per ricevere delle cure però sembra che le dottoresse avessero pensato che fosse alquanto sospetto dal momento che era rimasto molto in silenzio per quanto riguardava la ferita che si era procurato sulla mano. L'uomo non era stato identificato e anche questo report che è stato fatto alla polizia è stato fatto molti mesi dopo e quindi la polizia non è mai più riuscita a risalire a chi fosse questo uomo. È veramente difficile cercare molte informazioni perché comunque si tratta di un caso avvenuto 21 anni fa per quanto proprio ieri ho visto uno special di questo caso in tv. Vi terrò aggiornati se ci fossero altre informazioni ma io spero che questo uomo sarà portato alla giustizia ma dubito che sarà così. Vi ringrazio per aver visto questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao! Ciao!